Lui è di quanto a vedere il quadricchio. Ti spiego tutto. Con me c'è la trusa, luce. Non ti spiego tutto. Ma... Perché mi ricorda? Voi andate di fuoco. Perché lui non ci ricorda nemmeno di cosa riuscire. No, ci spiego io la cazzata. Non fai il militare in ruota. È più facile di così.